Questa è la mia vita, mi sveglio presto per portarvi il contenuto del day after della Juventus con le pagelle. Registro un video di 35 minuti, lo pubblico, nel momento esatto in cui lo pubblico, proprio un minutino dopo, ma proprio nemmeno 30 secondi dopo, boom, 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 bam, il mio cellulare esplode tra le notifiche generali perché Coop Miners è un nuovo giocatore della Juventus, che poi diciamo la verità, ormai ce l'aspettavamo, no? Era nell'aria, aspettavamo solamente l'ufficialità, però proprio oggi, che è lunedì, che c'è il day after, che magari facciamo il bar sport e volevo portarvi il paginone da 0 a 10, toccava portarvi il video di Coop Miners. Proprio oggi dovevano ufficializzarlo, prima Romeo Agresti, subito dopo Gianluca Di Marzio, hanno cominciato a twittare e a scrivere appunto che l'accordo era stato trovato e che il calciatore sarebbe diventato a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Però, ripeto, era una cosa che ormai galleggiava nell'aria da un po' di tempo, quindi non è una novità, non è una cosa che ci sorprende, non è una cosa che ci fa scoppiare, però credo che siamo realmente nella cacca un po' tutti in Serie A perché la Juventus già dalle prime mosse di mercato aveva dimostrato di fare sul serio, già dalle prime partite ha dimostrato di avere uno statura talmente forte da potersi giocare lo scudetto e adesso addirittura alza l'asticella andando a prendere Coop. Poi non so se a Coop seguirà anche magari Giedon Sancho, in quel caso poi vi dico proprio fermate, però in generale già l'arrivo di Coop secondo me indirizza principalmente il mercato. Qualcuno ultimamente mi diceva Ma perché ogni volta che la Juve fa un colpo lo critichi nulla di più sbagliato, nel senso che della Juventus mi erano piaciuti parecchio tre colpi, che erano Kefren Turam, Douglas Ruiz e Cabal, mi erano piaciuti meno altri tre, che erano Nico Gonzalez, un po' per le cifre spese, con Seisao e Kalulu. È chiaro poi che molto dipenderà da come Tiago Motta li farà giocare, però ragazzi l'arrivo di Coop Miners non è solo un colpo che mi piace o non mi piace, cioè per me Coop rientra tra quei giocatori che è impossibile giudicare, non si può dire a me Coop piace, a me Coop non piace, Coop è forte e basta, cioè è un discorso di fattualità, di essere fattuale, di un fatto chiaro e vero, poi possiamo metterci a dire che magari nel nostro piccolo possiamo dire cazzo attenzione a Coop che magari può fallire perché magari lo spendi tanto e non si integra, si può dire, si può dire anche di Cristiano Ronaldo, figuriamoci se non si può dire di Coop Miners, però mi risulta veramente difficile, io credo che l'acquisto da parte della Juventus di Coop sia veramente uno di quegli acquisti da far parlare tutti quanti sui giornali e non solo in Italia. Quando se ne era parlato inizialmente, quando se ne parlava inizio luglio per me era veramente difficile da fare, io ne avevo parlato anche con degli amici juventini e dicevo per me non si farà, ma perché? Perché la Juventus aveva preso in man che non si dica che friend to run, spendendo abbastanza soldi e Douglas Ruiz spendendone veramente tanti, quindi diceva anche andare a spendere 60 milioni per Coop, è difficile, molto difficile, quasi impossibile, visto che l'Atalanta non scende sotto quella cifra, secondo me la Juventus non lo farà. L'ha fatto, quindi i soldi li ha tirati fuori e questo gli va dato di merito. Va detto che quando poi parlavo con gli stessi amici negli ultimi giorni dicevano ormai si fa, ma perché non credevo che saremmo arrivati a tutto ciò, non credevo che saremmo arrivati a un Coop Miners che si tirava fuori dall'Atalanta, che smetteva di allenarsi, che smetteva di giocare, che cominciava a presentare dei certificati medici, cioè questo chiaramente ha spinto tutto verso il suo trasferimento alla Juventus, ci mancherebbe altro a quel punto lì, non c'era più possibilità di vedere qualcos'altro se non questo. Quindi quando poi ho visto quella roba là mi sono convinto anch'io che Coop si sarebbe andato dalla Juventus, però a inizio mercato, proprio per l'idea di mercato della Juve, dell'Atalanta, perdonatemi per il fatto che la Juve aveva fatto già un paio di colpi importanti, mi risultava difficile credere che alla fine la trattativa si sarebbe fatta, che sarebbe andata in porto, invece con attenzione, con pazienza, la Juventus alla fine lo ha convinto, ha convinto l'Atalanta a cederlo, anche se poi semplicemente ha accontentato l'Atalanta per prendere un giocatore fortissimo, davvero, un giocatore devastante, un giocatore che secondo me la Juventus prende, diventa tra l'altro il colpo più esoso a livello economico della Serie A, nella storia della Serie A tra i centrocampisti, perché comunque nessun centrocampista è mai stato pagato più di 60 milioni da una squadra della Serie A, quindi insomma capite bene anche la portata di questo acquisto, ma è un giocatore devastante in generale, è un giocatore già pronto, uno di quei colpi da far parlare, è il colpo del calciomercato estivo italiano in generale, è un giocatore che fa un po' tutto a centrocampo, che nasce come trequartista, lì Gasperini lo ha fatto crescere, lo ha fatto integrare, lo ha messo spesso in campo, lo ha fatto diventare il marziano, il cyborg che in questo momento è, però la cosa assurda è che all'Atalanta ha fatto un po' tutti i ruoli del centrocampo, senza mai rischiare di perdere quella qualità che ha dimostrato di avere, perché ha giocato trequartista dietro le due punte, ma ha giocato anche nel doppio trequartista, ha fatto anche la mezzala all'Atalanta, così come ha giocato nei due di mediana, cercando magari di fare quello che si sganciava un po' di più vicino, a Tederson, ma in realtà Coop, se proprio dobbiamo dirla tutta, ha giocato anche da solo in mediana all'Atalanta, o comunque sempre nei due di mediana, ma avendo i compiti del mediano e non della mezzala o del trequartista, insomma a centrocampo ha fatto praticamente tutto quanto, ogni ruolo che gli è stato chiesto a centrocampo, Coopminers lo ha fatto, e questo per me è un vantaggio per la Juve di Iago Motta, specie andando da un'occhiata al roster che la Juventus ha in mezzo al campo, perché se tu hai che Fren Turam, Douglas Ruiz, Fagioli, McKennie che ti sta rinnovando, e tanti altri nomi locatelli, che possono giocare da mediani e da mezzali, avere un giocatore come Coop che sicuramente arriverà per fare il trequartista tra Ilditz e a questo punto o Geton Sancho o Bangula o Nico González o con Seisao, poi non so chi giocherà con Ilditz, però che comunque qualora di servizio è da mettere come mezzala o come mediano, gli può tranquillamente far fare sia la mezzala che il mediano. Tra l'altro è un giocatore che segna tantissimo e che fa segnare ancora di più, cioè ancora di più no, un'ambia di mezzo, però comunque che a livello di gol della squadra è sempre molto presente. Per farvi capire, lo scorso anno nella stagione dell'Atalanta è stato super protagonista facendo 15 gol, 15 gol ragazzi, io spero che quest'anno li faccia Tobiq a Roma per farvi capire, questo l'ha fatto da centrocampista, e 7 assist. L'anno prima comunque aveva fatto, con molte meno partite perché l'Atalanta non aveva fatto tutte quelle finale d'Europa League, finale di Coppa Italia, anzi vittorie dell'Europa League, finale di Coppa Italia, quarto posto, eccetera, aveva fatto comunque 10 gol e 4 assist, quindi era andato in doppia cifra anche nella stagione precedente, che dimostra una costante del calciatore. Ma poi, diciamo una cosa perché è importante, non è che Cup Miners è esploso all'Atalanta, perché allora è vero che all'Atalanta molti fanno molto, molto bene, poi quando escono dall'Atalanta non si riconoscono più, me ne vengono in mente tanti che hanno poi fallito uscendo dal discorso Atalanta, uno su tutti, Gosens che è andato all'Inter e sembrava Gesù Cristo e invece non ha performato come avrebbe dovuto, anche se poi qualcuno in realtà ha performato, perché comunque Mancini ad esempio è titolare vicecapitano della Roma ed è uscito dall'Atalanta ed è lì da anni, Oilun dal Manchester United sta facendo molto bene, che sì, è partito da lì, è esploso, Gagliardini ad esempio un po' meno, Conti ad esempio un po' meno, Caldara ad esempio un po' meno, sono tutti, Duvanzapata continua a far bene anche con il Torino, anche se poi ha lasciato l'Atalanta ad un'età abbastanza avanzata, sono tutti giocatori che hanno fatto chi meglio, chi meno bene, però secondo me per Coop Miners la questione non è quella, nel senso che a parte che Coop per me è un alieno, cioè non giocava bene per Gasperini, a differenza di tanti altri che giocano molto bene proprio per quello che Gasperini gli fa, cioè ad esempio Ruggeri, che mi piace tanto, bisogna vederlo in un'altra condizione, in un'altra dimensione più che altro, perché io non so così sicuro che se Ruggeri va a giocare magari alla Roma fa quello che sta facendo all'Atalanta, alla Roma di De Rossi quello che sta facendo all'Atalanta di Gasperini, quindi ok, però Coop per me che sicuramente ha ottenuto del plus valore dal modo di allenare di Gasperini, dal modo di giocare di Gasperini, comunque per me è un'altra roba, cioè io ricordo che lui giocava alla Zed e già alla Zed se ne parlava come di un fenomeno, io ricordo che la Roma puntò molto su Coop e lo voleva tantissimo, però la Roma era disposta a spendere una cifra che si avvicinava ai 10 milioni mentre l'Atalanta lo pagò 14 milioni che al tempo erano già tantissimi per un calciatore sconosciuto che era super giovane quando arrivò all'Atalanta, aveva 22-23 anni che non conosceva nessuno, quando arrivato all'Atalanta addirittura si pensava fosse un nuovo Kevin Struttman che la Roma aveva perso, è molto di più secondo me, non so cosa sarebbe potuto diventare Struttman se non si fosse rotto tutto, però è molto di più secondo me di Kevin Struttman per quello che può diventare, e ancora un po' mi mangio le mani, no? perché comunque Coop Miners è fortissimo e chissà oggi cosa avremmo detto se l'avessimo preso noi, non lo so, cioè coi secco i ma, non si fa veramente niente, fatto sta che quando l'Atalanta lo ha preso dal mio punto di vista era già un giocatore molto forte, per questo è sbagliato focalizzarsi su se alla Juve farà bene come ha fatto con l'Atalanta, ve lo dico io, almeno per me, sì. Poi è vero che Gasperini ha l'oro nel culo, nel senso che tutto quello che Gasperini tocca diventa oro, io non lo so come faccia, l'Atalanta prende tre scappati di casa, chiaramente Coop Miners non è uno scappato di casa, e diventano fenomenali, ricordo che Zappacosta da noi era un giocatore molto discreto, poi era sempre rotto, mi stava anche simpaticissimo, però era molto discreto, all'Atalanta è arrivato, sembra Gesù quando gioca infermabile, delle volte pare Marcello, e io resto sempre basito, Gasperini non so come faccia, ogni volta che l'Atalanta gli prende un calciatore e quello diventa superforte, però ripeto, per me non è il caso di Coop Miners, per me lui sarebbe diventato quello che è diventato anche ad esempio qualora l'avesse preso la Roma, ma perché se ce l'hai, ce l'hai e c'è poco da fare. Detto questo, io dicevo, la Juventus prende Coop Miners, arriva a Torino, arriva al servizio di Tiago Motta, Tiago Motta, posso dire la verità, per me si merita questi innesti, nel senso che per come sta lanciando i giovani, per come sta lavorando con la Juventus, per il tipo di comunicazione che sta passando, per il fatto che sta già creando un plus valore, perché comunque da quando è arrivato un bangula è diventato un calciatore di pallone e non è scontato, lancia Savona, segna Savona, la Juve fa due partite, vince tutte le partite 3-0, sta valorizzando tutto quello che ha, quindi gli innesti che chiede Tiago Motta alla Juve se li merita, però adesso voglio fare una piccola postilla e dire sicuramente co allegri tutte e due le partite che la Juve ha giocato anche con questi giocatori che gli stanno prendendo a Tiago Motta sarebbero finite uno a zero per la Juventus con due tiri in porta per la Juve e un tiro in porta per il Cuomo e uno per il Verona chiaramente perché così funzionava Massimiliano Allegri però quando Allegri veniva a crocifisso perché dicevano che aveva una squadra da scudetto e che doveva vincere lo scudetto quando va arrivato terzo crollando io vi voglio dire che quest'anno a Tiago Motta gli hanno preso Douglas Luiz Kefren Turam e Kup Miners cioè gli hanno speso 120-130 milioni di euro forse anche di più per comprare gli tre centrocampisti è vero che la Juventus ha perso Adrian Rabiot però è anche vero che aveva come altri idolari Locatelli e McKennie che sulla carta poi in realtà gioca ancora molto Locatelli e anzi diventerà per me come vi ho già detto in tanti video molto importante per la Juve Diago Motta lo sto già diventando nel suo ruolo di scendere in fase difensiva quando la Juve non è in possesso e va a abbassarsi da braccetto però al di là di questo e del discorso del braccetto la Juventus con Locatelli e con McKennie sono diventati due panchinari sulla carta comunque c'hanno tre giocatori più forti davanti al centrocampista Douglas Ruiz che a Frenturam e Cup Miners quindi forse se posso permettermi ricordo che tra l'altro viene intercato anche Fagioli probabilmente Allegri non aveva una squadra così tanto forte come si voleva gli si voleva far passare poi se si vuole dire che Allegri non faceva rendere i calciatori della Juventus sono il primo a dirlo sì è vero nel senso che il grande problema secondo me della Juventus non era tanto quanto la Juventus giocasse bene o male anzi non era quanto la Juventus ricevesse dei risultati facesse dei risultati quanto la Juventus giocasse bene o male cioè la Juve era sempre pessima nel guardarla e questo faceva il contrario di valorizzare i giocatori pochi calciatori sono stati valorizzati da Allegri qualcuno si Gatti Cambiaso per citarne due Kenan Hildiz con Allegri però comunque non ha creato quel plus valore che sta creando Tiago Motta e quindi quella cosa lì secondo me può bastare per portarti all'esonero cioè all'esonero all'allontanamento nel senso se tu hai tre anni due anni tre anni di Juve e in questi due tre anni è vero arrivi terzo ci può stare ma non crei plus valore è giusto che si cambi però non venitemi a dire che la squadra di Allegri era da scudetto perché allora quella di Tiago Motta di quest'anno è da squadra che deve vincere la Champions League a spasso non lo è come non lo era quella lì da scudetto perché ok magari mi dici guarda io ho sostituito Rabiot con Koop ok e quindi però che friend to run Douglas Ruiz l'arrivo di Cabal cioè comunque Di Gregorio che comunque magari è un po' più focus la Juventus ha speso poi vogliamo dire che Cabal Calullo sono arrivati perché serviva dietro da una mano sì anche se poi non è partito nessuno tra i titolari lì quindi anche Cabal e anche Calullo danno maggiore estensione alla rosa Di Gregorio sostituisce Cesni ok magari qualcuno mi dirà vabbè Cesni dava più sicurezza se per voi è così va bene di Gregorio non arrivano propri tiri fatto sta però che che comunque la Juventus la stanno rinforzando come si deve si parla di una sessantina di milioni sono tanti soldi per un calciatore che era in uscita però in questo caso non mi sento di giudicare la Juventus e non mi sento di dare un voto per il giocatore per quanto è stato speso perché l'Atalanta non l'avrebbe dato per un centesimo in meno quindi in questo caso per dare il voto all'acquisto mi sento in dovere di non valutare la cifra spesa l'Atalanta si era impuntata voleva 60 milioni di euro e per meno nemmeno un centesimo di 60 milioni non l'avrebbe ceduto poi in questo momento in cui sto registrando sono circa le 11 e mezza di mattina è stato ufficializzato pochi minuti fa il calciatore non sappiamo quanto sia costato effettivamente alla Juventus però mi viene da pensare proprio per quello che è uscito che la cifra dovrebbe essere intorno ai 60 milioni di euro circa quindi è una cifra importante ragazzi è una cifra importante però è una cifra importante per un giocatore che vale quella cifra lì cioè a differenza di Nico González che per me è un buon giocatore ma non è mai arrivato al livello di Valenna con 35-40 milioni infatti per me la Juve ha speso troppo poi magari farà bene a Torino chi lo sa però io avrei puntato su qualcun altro vi dico la verità avrei provato a prendere Sancho anche se poi Sancho ha un ingaggio che è abbastanza importante quindi lì è un altro paio di maniche ma avrei puntato qualcun altro vi dico come la penso oppure avrei provato ma lì poi le scelte di Di Agomota sono fondamentali però leggevo tipo che Di Agomota avrebbe tenuto Sule ma l'hanno venduto per fare plus Valenza ma hai speso più di quanto hai casato per Sule per prendere Nico González è vero che sono giocatori diversi è vero che Nico ti fa la fase difensiva è vero che ti dà una mano pure Chiesa hai perso Chiesa per me un po' ti dava una mano a fare la fase difensiva ok attacca tanto non è che abbia le caratteristiche di Politano ad esempio o del Cajé Hon che fu che ti fa la doppia fase Nico González magari ce l'ha un po' di più però però invece Cupo Miners per me che comunque è una cifra che il giocatore vale è giusto che vengano spesi poi dico anche un'altra cosa che l'Atalanta ha rifiutato tutte le offerte qualche tivoso della Juventus ha chiesto rispetto vergogna quello e quell'altro io vi dico l'Atalanta ha rifiutato tutte le offerte innanzitutto ha dimostrato di essere una squadra forte una società con due palle così che comunque se vuole tenersi un giocatore se lo tiene anche contro il volere del giocatore stesso e voi mi direte bravi scemi poi te lo tieni lì alla fine l'hanno dato ma intanto la Juve l'hanno fatto fa la strizza hanno ottenuto i soldi che volevano per un giocatore che l'Atalanta riteneva forte e qualcuno mi è venuto a dire che non gli è piaciuto il modo di comportarsi dell'Atalanta che aveva ottenuto in qualche modo un rinnovo del giocatore al tempo con la promessa di cederlo sì ma era cederlo al Napoli non di cederlo a chiunque partiamo dal presupposto perché lo scorso anno quando Coop aveva deciso di rinnovare aveva rifiutato il Napoli ma con la possibilità di scegliersi di andare via a un'altra società ma non era chiaro che sarebbe stata la Juventus ad esempio chiaramente poi bisogna anche valutare i soldi che voglio io ma soprattutto ci sta che non vi sia piaciuto il modus operandi dell'Atalanta però ragazzi tu firmi un contratto a me è piaciuto ancora meno quello di Coop Miners perché a livello legale tra una squadra che comunque dice io ho un giocatore con un contratto quindi me lo tengo fino a quando voglio e un giocatore che dice io presento dei certificati non vengo ad allenarmi sparisco dalla circolazione perché voglio andare via allora io vado a giustificare più la società che magari si comporta male perché se hai promesso al tuo giocatore di andare via è giusto che tu lo vai a cedere ma infatti l'hanno ceduto alla fine l'hanno accontentato ma io credo che l'avrebbero accontentato in ogni caso però il comportamento di Coop Miners ha rischiato dal mio punto di vista di far calare drasticamente il suo prezzo cioè un giocatore che presenta dei certificati un giocatore che non sale in asalto alla Supercoppa Europea dice che non vuole rimanere e tutto quanto è chiaro che poi se io vado a comprarlo e costo 60 milioni io dico no guarda 60 milioni non te li do più che ne do a 45 quindi rischiavi di creare un danno inimmaginabile pari a 10-15 milioni di euro che è una cifra importantissima per un asset dell'Atalanta per un asset della società quindi per me è lì che Coop ha sbagliato e ve posso dire in qualche modo si è fatto anche un mezzo autogol perché secondo me l'Atalanta è impazzita e ha chiesto fino all'ultimo centesimo tutti i soldi proprio per l'atteggiamento di Coop per il fatto che la Juventus avesse prima parlato con Coop che Coop avesse deciso quindi di mettersi fuori squadra e di smettere di giocare perché se si fosse creata una situazione un po' più pacifica probabilmente secondo me almeno l'Atalanta non dico che avrebbe strizzato l'occhio alla Juventus non esiste cioè l'Atalanta voleva dimostrare di avere due palle così e ce le ha perché l'Atalanta poteva vi dico la verità poi lo vendi a 60 milioni perché non è che puoi tenerlo però comunque l'Atalanta poteva tranquillamente prenderlo tenerlo in tribuna e dire tanto i giocatori ce li ho non me ne frega niente ok solo che questo secondo me ha portato l'Atalanta ad impazzire il fatto che Coop abbia in qualche modo un po' ricattato l'Atalanta io credo ripeto che se Coop non l'aveste fatto così avessi detto all'Atalanta guarda io ho rinnovato perché me l'hai chiesto però a questo punto ti prego cedimi prima mettiti a posto compro quello di comprare ma poi cedimi perché non voglio più stare qua penso che per Cassi avrebbe detto ok allora facciamo una cosa io chiederò 60 milioni alla Juventus e poi troveremo un accordo per cederti comunque sappi che andrei via e in quel caso penso che in qualche modo anche pagandolo 40 milioni più Ausen con Ausen che andava all'Atalanta magari inserendo nella trattativa qualche giovane che poteva insomma far comodo a Gasperini magari andando a chiudere a 50 più bonus lì l'Atalanta secondo me si sarebbe anche un pochino alleggerita e e si sarebbe anche sarebbe anche un pochino andata incontro alla Juventus per non rovinare i rapporti ma questo modo di fare questo modus operandi credo che abbia un pochino mandato su tutte le furie l'Atalanta per quello se sono incaponiti così tanto nel chiedere sempre quei 60 milioni e non un centesimo in meno secondo me quindi per me quel modo di agire che a livello umano non mi piace perché poi io ripeto è un po' come le amicizie se l'amico che c'hai te parla sempre male di tutti fidate di me che te parla male anche di te a qualcun altro è così che funziona ecco ed era il discorso che facevo io quando al tempo la Roma prese Salah cioè io ero contentissimo di prendere Salah ma dissi ragazzi fidatevi di me guardate Salah che cosa sta facendo quella fiorentina quando ci sarà possibilità che Salah vada via Salah farà di tutto per andare via e per questo vi dico Cup resta arrivare la Juventus i Juventini sono contenti ed è giusto perché è un gran colpo ma fidatevi di me per aver visto come ha fatto se tra due anni arriva un'offerta del Manchester City che offre al giocatore il quadruplo di stipendio e offre 80 milioni alla Juve la Juve pensa che ne vuole 120 fidatevi di me che Cup farà di tutto per andare se vuole andare e di tutto vuol dire che smetterà anche di giocare che presenterà anche dei certificati in cui non può giocare che si impunterà che smetterà di presentarsi questo succederà perché se lo fa per passare dall'Atalanta alla Juventus lo farà anche per passare dalla Juventus al Manchester City quindi eventualmente in Premier League in un campionato più prestigioso in una squadra che ogni anno punta a vincere la Champions League dico City come potrei dire Real Madrid come potrei dire Bayern Monaco perché la Juventus poi ambisce ad arrivare lì ma non è lì in questo momento la Juve non parte per vincere la Champions poi può vincerla sì come poteva vincere l'Inter quando ha fatto la finale però non parte per vincere la Champions League se Cup avrà la possibilità e ha la voglia di farlo lo farà come l'ha fatto per la Juventus con l'Atalanta lo farà con la Juventus per qualche altra società quindi questa cosa è un lato umano che non mi ha mai fatti impazzire anche quando lo fanno su di noi cioè io quando prendemmo salà lo dissi subito dissi ragazzi fidatevi di me che questo ce lo godremo diventerà un fenomeno perché già la Fiorentina si vedeva però quando sarà il momento di lasciarlo andare lo lasceremo andare non potremo nemmeno dire no dai ti prego rimani no non esiste si impunterai e andrà via è stato anche più facile del previsto perché la Roma gli ha detto se vuoi andare via presenta meno offerta fatta bene io ti prendo e ti lascio andare mi ha fatto un po' sorridere gli Juventini che chiedevano giustizia dicendo noi quando ci avete chiesto Manna abbiamo liberato Manna e invece voi giunto lì ce l'avete fatta aspettare fino alla fine ci trattate sempre così se un giocatore me lo chiedono se la Roma su lei voleva andare alla Roma per 30 milioni l'Arti ce ne davano 35 noi l'abbiamo liberato invece voi allora posso dire una cosa innanzitutto ritornando sul discorso di Sule Sule non è che la differenza tra Sule e Coop Miners ma so stufo di dirlo so stufo di spiegare l'ho spiegato almeno 46 volte ma ci riprovo per l'ultima volta la differenza tra Coop Miners e Sule è che Coop Miners non ha la Sule ha detto io voglio giocare alla Juventus poi se mi cedete preferisco rimanere in Italia quindi magari vado all'Aro Maggiore con Di Bale e la Juventus gli ha detto no tu te ne vai perché abbia bisogno di monetizzare e te ne vai dove diciamo noi non funziona così non è che puoi costringerlo ok tu devi dire cioè se la Juve avesse detto no io non ti cedo la roba per quella cifra rimani lui avrebbe detto ah cazzo bene rimango sono contento gioco perfetto sono contentissimo la Juve invece voleva che andassi via per monetizzare ma che andassi via dove volevano loro quindi non facciamo i santi e santifichiamo la gente cerchiamo di capire un attimo Coop Miners invece è diverso perché Coop non è che non è che Coop ha detto guardate ragazzi io se avete bisogno di monetizzare voglio andare alla Juve se no rimango volentieri Coop ha detto me ne voglio andare e voglio andare proprio lì se tu dici una cosa del genere scendi a patti con la società che ti deve comprare per trattare in un determinato modo quindi è normale che l'Atalanta si sia messa de lato per cercare di ottenere più soldi possibili perché l'Atalanta giustamente ha detto tu te ne vuoi andare cioè un conto un conto è che la Juve non è che può scegliere di cedere e dove cederlo è chiaro no l'Atalanta l'Atalanta al contrario si sarebbe tenuta volentieri i Coop Miners la Juventus no perché voleva monetizzare se il Coop fosse andato dall'Atalanta gli avessi detto guardate io voglio andare alla Juve se mi dovete cedere ma se non mi dovete cedere rimango volentieri l'Atalanta avrebbe fatto le sue scelte avrebbe detto noi non abbiamo bisogno di cedere però cediamo perché cediamo perché magari il giocatore vuole andare lì l'offerta è buona la Juventus ha raggiunto la nostra richiesta lo diamo via se la Juve offre 45 48 50 il giocatore me lo tengo ok quindi è normale che si sia creato quello poi ripeto i tifosi della Juventus che comunque devono godere perché hanno preso Coop io gli faccio i miei applausi e complimenti hanno preso un giocatore pazzesco secondo me non si dovrebbero santificare perché io mi ricordo che al tempo la Roma chiese informazioni su Cáceres quando al tempo la Juve vinceva gli scudetti la Roma era seconda o terza e Cáceres aveva 6 mesi di cont cioè dopo 6 mesi a gennaio sarebbe andato in scadenza anzi no addirittura era in scadenza dopo 6 mesi perché era a gennaio e la Juve per Cáceres alla Roma chiese 18 milioni di euro cioè che era una cifra impensabile per un panchinaro che giocava pochissimo che già di per sé secondo me andarlo a pagare 12-13 sarebbe stato tanto a pieno regime figuriamoci scadenza ma non è un elemento un elemento unico e a sé stante ricordo anche che il Napoli chiese Pereira che faceva panchina alla Juventus e la Juventus chiese 26-27 milioni di euro è normale che innanzitutto l'Atalanta si sarà anche in puntata ma è normale che se un giocatore è forte ce l'hai pensi che sia per te un valore importante e lo vuole una tua diretta rivale perché l'Atalanta e la Juve che se ne dica si giocheranno probabilmente lo stesso obiettivo l'Atalanta può giocarsi lo scudetto come se lo può giocare la Juve può arrivare secondo come ci può arrivare la Juve può arrivare terzo come ci può arrivare la Juve quindi l'Atalanta ha la mentalità in questo momento di giocarsi lo scudetto secondo me è giusto che si impunti è giusto purtroppo per la Juventus il modus operandi di Kupmeiner per me ha mandato in puzza l'Atalanta che se no come ha sempre fatto perché non ha mai avuto problemi a cedere alle cifre giuste probabilmente sarebbe anche venuta incontro alla Juventus dicendo guarda se il giocatore vuole andare via e noi possiamo cederlo l'abbiamo pagato comunque 14 milioni di euro a 56 te lo diamo ma proprio questo modo di lavorare di aver prima parlato col giocatore che poi lo fanno tutti quindi non è una colpa però aver prima parlato col giocatore poi il giocatore si è impuntato ha smesso di allenarsi e tutto quanto ha portato l'Atalanta a dover dire abbasso il prezzo col cazzo scusate il francese non lo abbasso e quindi per me è arrivata questa cosa qua voto 9 ragazzi Kupmeiner è un colpaccio a qualunque cifra sarebbe stato un colpaccio 9 assolutamente sì giocatore straordinario fortissimo che fa passare un centrocampo la Juventus un centrocampo discreto come l'anno scorso buonissimo con Douglas Luiz e Kefren Turam a uno dei migliori centrocampi d'Europa perché la Juventus veramente qualcuno tipo Real Madrid sicuramente è superiore però la Juventus si candida tra i migliori centrocampi d'Europa avendo Kupmeiner Kefren Turam Douglas Luiz Fagioli McKennie e Locatelli dal mio punto di vista sì dal mio punto di vista in questo momento la Juventus ha tra i centrocampi più forti d'Europa per distacco voto 9 fantacalcio sì penso che anche alla Juventus anzi addirittura con Tiago Motta per me seguirà la falsariga di Gasperini quindi aspetto la doppia cifra da Kupme mi aspetto 10-11 gol e 7-8 assist quindi una gran presenza da parte dell'olandese al fantacalcio se avete la possibilità di andare a prenderlo andate a prenderlo certo non batterei di cori come faceva l'Atalanta probabilmente credo che la Juventus ribatterà Vlaovic ma non lo so vedremo fatto sta però che comunque intanto la Juventus fa un colpaccio e per me si merita solo ho parlato tantissimo ma avevo un sacco di cose da dire grazie per aver visto i suoi video mi da lasciare tantissimi piace boccia all'alene come sempre ci vediamo al prossimo video